Ciao a tutti, oggi prepareremo i muffin soffici al cocco. Il tempo di preparazione della ricetta è di 40 minuti circa. Gli ingredienti sono zucchero, uova, yogurt al cocco, olio di semi di girasole, farina di cocco, fegola di patate, farina di tipo 00, latte tiepido, lievito per dolci e sale. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero e lo facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10. Aggiungiamo sul fondo del boccale con la spadola. Aggiungiamo le uova e le facciamo montare per 5 minuti a velocità 4 senza misurino. Aggiungiamo l'olio, lo yogurt ed azioniamo il bimbi. per un minuto. A velocità 4. Aggiungiamo la farina di cocco, la farina di tipo 00, la fregola, il latte che deve essere tiepido. Il latte che deve essere tiepido e il sale. ed azioniamo il bimbi per 2 minuti a velocità 4. Aggiungiamo il lievito e facciamo amalgamare per 20 secondi a velocità 4. Il composto è pronto, trasferiamolo nei pirottini per muffin. cuocere in forno per riscaldato statico a 180 gradi per 20-25 minuti circa. I muffin ne sono cotti, lasciamoli intiepidire prima di rimuovere dallo stampo. Muffin soffice al cocco. Grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti! Grazie a tutti!